Benvenuto su Febbre da Gossip. Ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le ultime notizie e aggiornamenti. Non dimenticare di lasciare un bel like e commentare per mostrare il tuo supporto, che è fondamentale per il nostro canale. Grazie! Oggi ci uniamo al cordoglio della nazione italiana per la perdita di un'icona indimenticabile, una donna amata da milioni di telespettatori. La sua figura gentile e sorridente ha incantato le case degli italiani per ben 40 anni, dal 1953 al 1993, diventando una vera e propria figura di famiglia per molte generazioni. La sua celebre frase pronunciata al pubblico, Signore e signori buonasera, è diventata il suo marchio di riconoscimento, simbolo di cortesia ed eleganza televisiva. Il suo nome e volto sono indissolubilmente legati a questa frase, che molti di noi ricordano con affetto e nostalgia, poiché ha segnato un'epoca dorata della televisione italiana. Durante la sua lunga carriera, Nicoletta Orsomando ha condiviso momenti storici, eventi culturali e programmi iconici, diventando un punto di riferimento per l'intera nazione. La sua eloquenza e la capacità di comunicare con empatia hanno conquistato il pubblico, che l'ha sempre accolta con affetto. Oggi piangiamo la perdita di questa grande signora che ci ha incantato con la sua gentilezza e il suo stile impeccabile. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori dei telespettatori, ricordandoci sempre l'importanza della cortesia e dell'educazione nel mondo dell'intrattenimento. Nicoletta Orsomando, il nome dietro l'iconica signorina buonasera, ci ha lasciato, ma il suo ricordo e il suo impatto positivo resteranno con noi per sempre. La sua storia e il suo contributo alla televisione italiana saranno sempre fonte di ispirazione per le generazioni future di annunciatrici e professionisti dei media. Riposa in pace, Nicoletta Orsomando, e grazie per tutto ciò che hai dato al nostro Paese attraverso la tua ineguagliabile gentilezza e grazia.